Un paese in bilico. Quale futuro ci meritiamo? Ragione, fede, etica, politica e convivenza di fronte alla complessità del mondo contemporanea. Buongiorno da parte di Gabriele Pugliese e benvenuti nel programma Quale futuro ci meritiamo? E veramente di fronte alla situazione che stiamo vivendo ce l'opponiamo molto spesso questo tipo di discorso. Quale potrebbe essere il nostro futuro e se ci meritiamo questo futuro, se siamo noi artefici di questo futuro. Ecco, dopo la prima puntata con Stefano Bruno Galli e Luciano Fasano sul tema delle autonomie, nell'ambito di questa emergenza del coronavirus, andiamo a prendere in considerazione un altro tema particolarmente caldo che è quello della comunicazione e lo facciamo con due esperti di comunicazione che indico in ordine alfabetico, ovviamente. Buongiorno a Giovanna Cosenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Mario Rodriguez. Bentrovati, bentrovati. Entrambi docenti, professori di comunicazione con tante esperienze, indubbiamente in questo tipo di settore. E quindi noi ci stiamo e desideriamo chiederci qual è la situazione, diciamo, di questa dimensione della comunicazione al tempo del coronavirus. È cambiata la modalità dei diversi tipi di comunicazione, da quella istituzionale, scientifica, politica, mediatica, quella portata avanti dalle istituzioni religiose e dalla rete. Sono tante le cose. Professoressa Cosenza, quali differenze e convergenze ci sono tra queste diverse tipologie, però alla luce di questa emergenza che stiamo vivendo? Ma in generale ci sono differenze e distinzioni molto chiare e delimitate. In questo caso bisogna registrare il fatto che queste differenze si siano molto attenuate, nel senso che c'è, e questa la considero anche una buona notizia, una tendenziale istituzionalizzazione della comunicazione. Faccio un esempio. È anche una maggiore sensibilità a questo registro istituzionale che le persone si attendono. Faccio un esempio. Ricordiamo le polemiche che suscitò il fatto che il presidente Conte avesse per una delle sue comunicazioni, ormai tempo fa, privilegiato la piattaforma Facebook. In realtà è tutto molto mescolato. Diciamo che il sistema dei media ormai è sempre intrecciato. I giornalisti, le testate giornalistiche, spesso usano Twitter, cioè per rivolgersi, i politici usano Twitter o Facebook per rivolgersi ai giornalisti, e i giornalisti usano i social per rincorrere le loro fonti. E quindi era normale. Però in questa situazione ha fatto specie questo uso, e quindi questo secondo me segnala anche una cresciuta sensibilità e desiderio di, nei confronti di, e anche un maggiore desiderio, di avere queste comunicazioni il più possibile istituzionali da parte di tutti. In quel caso ovviamente era il presidente Conte, però su questa scia si stanno un po' allineando tutti, per cui suona molto più stonato oggi, non so se ci avete fatto caso, il tweet strillato, ecco perché per esempio figure che tendevano sempre a strillare molto, come Matteo Salvini, ma anche lo stesso Matteo Renzi, quindi è proprio una considerazione super partes la mia, stridono, hanno perso efficacia, hanno perso quel seguito che prima avevano molto di più. Non possono più usare questo registro, questi toni, queste esasperazioni, per la situazione ma anche per questa conseguenza proprio nell'ambito della comunicazione. Cosa ne dice il professor Rodríguez? Questa modalità comunicativa, come diceva la professoressa Cosenza, un po' urlata, insomma, viene un pochettino meno in questo tipo di contesto dove la gente vuole essere più rassicurata e quindi non è un caso che, nonostante i limiti, dopo li vedremo ovviamente della comunicazione di Giuseppe Conte, però la gente apprezza di più un tono anche un po' magari generico, ma non un tono che non metta in discussione un po' il proprio vissuto in questo momento. La gente ha bisogno di rassicurazioni? Sì, penso di sì, penso che il punto però sia, o almeno sono assolutamente d'accordo con le cose che ha detto la professoressa Cosenza. Io accentuerei le cose che sta dicendo lei, e cioè che forse è un bisogno di rassicurazione che domina e quindi questo bisogno di rassicurazione che constatiamo nell'aumento di consensi che non avevamo registrato nei confronti di altri Presidenti del Consiglio in altre situazioni. Quindi sembrerebbe quasi che l'accentuarsi della crisi induca ad un bisogno di rassicurazione che spinge le persone a riconoscersi a sostegno di colui che appare la persona che dà la possibilità di sperare al superamento della crisi. Credo che il bisogno di rassicurazione sia dominante e in questo forse un cambiamento degli stili di comunicazione c'è. Io però vi vorrei anche sollecitare un'altra riflessione come sia diventata dominante la dimensione del news management cioè della capacità o del tentativo di maneggiare le notizie o ciò che diventa notizia. Questo è diventato ancora più importante degli anni scorsi anche perché dei mesi scorsi perché in questa situazione gli unici eventi che si possono generare sono quelli che si generano attraverso questo circuito dell'intervento sui social ripresa dei media questo ping pong tra social media e media tradizionali tv in testa che diventano la realtà la seconda realtà mediatizzata o dei media dicono alcuni studiosi questo è un elemento interessante che modifica proprio anche il modo in cui si fa politica. Professoressa Cosenza e le modalità di comunicazione che a volte si vanno a proporre parlano anche queste alla pancia delle persone è opportuno farlo o no? Allora faccio una premessa a me non piace l'espressione del parlare alla pancia delle persone pensando in modo dispregiativo a questa povera pancia perché tutti abbiamo la pancia e non ha niente di male la nostra pancia e si parla alla pancia o alla testa o al cuore usando le diverse metafore contemporaneamente in tutte le comunicazioni fuori dai social dentro i social nella comunicazione interpersonale faccia a faccia a maggior ragione in cui la presenza percettiva permette alle persone di avere molte più informazioni complessive sugli altri su quelli con cui stanno parlando sia uno a uno uno a molti eccetera eccetera fatta questa premessa diciamo che per guardare cosa sta succedendo adesso l'uso dei social alla rete eccetera eccetera il lato positivo è che l'Italia che non è molto avanzata dal punto di vista della diffusione della cultura digitale siamo migliorati nei numeri che riguardano l'accesso il semplice accesso accesso a internet però un conto è semplicemente accedere un altro conto è cosa ci fai su internet e l'alfabetizzazione e la cultura digitale la consapevolezza di questi mezzi ci vede molto indietro nei paesi europei nei paesi sviluppati nel mondo detto questo in questi due mesi di reclusione tutti sono stati giocoforza costretti a entrarci dentro sono reali queste comunicazioni assolutamente sì non di più e non di meno delle altre comunicazioni che fossero con i media cosiddetti tradizionali e che naturalmente anche questi si sono digitalizzati e hanno una fruizione come stiamo vedendo è tutto sempre più mescolato il digitale ha reso il sistema dei media ancora più intrecciato di quanto non fosse prima dell'avvento del digitale detto questo il falso e il vero è difficilmente distinguibile nei social sui social alla televisione sui giornali cartacei esattamente come è difficilmente distinguibile a volte nella comunicazione interpersonale capire se uno ti sta mentendo o ti sta dicendo la verità dopodiché tutta questa tendenza a demonizzare e a concentrare le falsità le fake news solo sui media digitali è frutto della scarsa cultura digitale di questo paese che avendone paura non conoscendoli bene avendone paura io qui ho sempre notato negli ultimi proprio 10-15 anni un'estrema resistenza da parte dei cosiddetti media tradizionali ad accettare e con questa estrema resistenza adesso ovviamente si è dovuta sciogliere nel nulla quindi queste distinzioni reale virtuale ciò che avviene solo sui social non avevano senso prima e adesso è sotto gli occhi di tutti che ancor meno abbiano senso non sto dicendo che non ci siano difficoltà la cosiddetta circolazione delle fake news è un problema però non è che non è ascrivibile solo ai social assolutamente è chiaro che i social ci mettono in condizioni di doverci porre il problema di un'assunzione di responsabilità rispetto alla verifica il controllo della piccola notizia che abbiamo prima di inoltrarla ecco pensarci due volte perché a volte non è solo una questione di essere colti o non colti anche il buon senso a volte può far capire se ci si pensa un minuto in più che questo questo inoltro che stiamo facendo è portatore di una sciocchezza totale ecco quindi cosa dico dico che i social capillarizzano e aumentano la velocità della possibile diffusione in tutti i capillari appunto insomma in tutte le periferie più periferie del paese però insomma è un sistema che evidentemente è sempre più mescolato è sempre più intrecciato e io dico meno male che stiamo capendo questo credo che uno dei risultati positivi potrà essere forse appunto una maggiore consapevolezza e digitalizzazione della nostra cultura certo a crescere queste competenze diventa particolarmente decisivo in questo momento però io volevo soffermarmi a una parte della della sua riflessione professoressa Cosenza a quella parte diciamo sulla comunicazione incentrata si diceva sul tema della paura ad esempio molto spesso si individua per schematismo probabilmente una comunicazione dicevamo che è rivolta alla pancia e l'altra alla testa questo tipo di discorso è possibile andare a riorganizzarlo in maniera diversa insomma la comunicazione va a incentrarsi sulle emozioni complessivamente oppure esiste la cosiddetta comunicazione razionale oppure quella tipicamente emotiva chi comincia ho una cosenza professoressa aveva allora non esiste una comunicazione che possa prescindere dalle emozioni non esiste una divisione fra mente e corpo fra razionalità e emotività questo è stato dimostrato da diversi anni da neuroscienziati ampiamente riconosciuto nelle scienze cognitive io cito sempre perché è un libro divulgativo che è piacevole da leggere il libro di Antonio Damasio il neuroscienziato del 94 quindi stiamo parlando di tanti anni fa che chiamava l'errore di Cartesio questa separazione fra mente e corpo facendo un torto a Cartesio perché Cartesio povero lui René Descartes prestò moltissima attenzione in realtà a quelle che chiamava le passioni dell'anima sono le emozioni però diciamo che ha ragione Antonio Damasio nel dire che la vulgata la divulgazione quindi ciò che è rimasto del pensiero di Cartesio è stato ereditato dalla cultura occidentale e abbiamo un senso comune che vede molto separata la mente dal corpo e questo è tipico proprio della cultura occidentale a Oriente in Oriente per esempio molto diverso in comunicazione naturalmente ci sono delle conseguenze che provengono dall'eredità di questa separazione e io prima diciamo sottolineavo il fatto che non sopporto questa denigrazione della pancia nel detto parlare alla pancia come se parlare alla pancia fosse appunto fare appello al peggio perché il corpo è coinvolto in tutti gli stati emotivi e non esiste una possibilità di ragionare e di condurre argomentazioni che sia completamente staccata dalle componenti emotivi anzi dirò di più che quanto più un comunicatore una comunicatrice fa appello a una presunta ragionevolezza tanto più questa ragionevolezza è fondata appunto invece sulla intenzione di rassicurare per esempio perché se io mi propongo come una comunicatrice molto razionale ragionevole e calma probabilmente avrò più capacità di rassicurare ma non è detto che io sia ferrea nella mia logica né che io stia dicendo la verità né che io abbia evidenze fondatissime potrei tranquillamente mentire o dire sciocchezze ma se lo faccio in maniera estremamente rassicurante passerò per essere una che argomenta e che conduce una comunicazione razionale in realtà faccio appello a quel bisogno di rassicurazione cui faceva riferimento prima il collega Rodriguez che in questo momento è molto forte ecco perché in questo momento il predominio dei numeri del discorso scientifico e di una comunicazione più istituzionale e calma è qualcosa che va incontro a un bisogno ma stiamo dei cittadini delle cittadine delle persone ma stiamo parlando di qualcosa di assolutamente connesso alla nostra emotività condivide professore non c'è più più chiara scorciatoia emotiva che quella di fare un numero quando le vetrine dei saldi ti dicono questo si vende a 9,99 e non a 10 quando se tu dici adesso ho un ricordo della mia adolescenza dove ascoltavo un signore che mi diceva le grandi virtù delle unioni sovietica e diceva sempre le tonnellate di acciaio prodotte e diceva sempre dei numeri con delle virgole e poi una volta presi appunti e mi resi conto che ogni giorno era un numero diverso voglio dire non c'era molto all'incirca erano quelli ma certamente se tu dici circa mille circa centomila dici una cosa se dici 99.905 dai un'altra sensazione dai la sensazione di aver fatto quel conto di aver pensato e quindi aumenti la credibilità dell'affermazione che stai facendo perché se noi diciamo mi pare che l'opinione degli italiani sia questa diamo una sensazione se diciamo abbiamo fatto un sondaggio e il 47.2% degli italiani lo 0.5% degli italiani si sono spostati nel loro consenso quando il margine di errore di un sondaggio è dei più e meno tre e tutto questo è giocare sull'arcana numeri finita l'arcana imperi comincia l'arcana numeri su una cosa piccolina vorrei giustamente io sono un ammiratore di Damaggio ci sono anche dei TED che sono anche meno impegnativi dei libri di Damasio che sulla parte poi di neuroscienze sono molto importanti lui poi scrive in cerca di Spinoza cerca cerca di andare verso il filosofo delle passioni ecco dividiamo emozioni da sentimenti è purtroppo che nella nostra lingua il termine feelings le sensazioni ciò che si sente lo traduciamo sentimenti e acquisisce una sfumatura un po' sentimentale ma in realtà non sono tanto le emozioni che ci fanno ragionare sono i sentimenti le emozioni sono cose di piccolissima durata è la paura è il pianto improvviso che ci esce se vediamo una scena che ci commuove è la sensazione di aspro che ci dà il limone sulla punta della lingua quella è l'emozione dura poco ma questa attiva in qualche parte del nostro cervello un database di sentimenti che sono le cose che ci fanno posizionare da una determinata parte vedo una persona che soffre e io mi sento da quella parte vedo un'ingiustizia e io mi sento da quella parte vedo una persona che finge e a me dà fastidio allora mi sento antagonista ma è quel sentire che spinge alla ragionevolezza non c'è come diceva giustissimamente la professoressa Cosenza questa divisione questa contrapposizione è uno dei dei portati dannosi anche di un certo illuminismo ritardo illuminismo con questa iperrazionalità come se esistesse l'uomo aperto altamente razionale capace di fare calcolo dico una sola cosa perché questi sono argomenti che mi emozionano appunto generano dei guardate i sentimenti sono stati fondamentali in termini evolutivi per la specie umana noi con i sentimenti abbiamo saputo dare delle risposte a cose che non capivamo e anche oggi ci sono tante cose che non capiamo i sentimenti sono stati fondamentali per permettere alla specie umana di evolversi di sopravvivere se volete anche di dominare le altre specie ma sono stati i sentimenti che hanno unito tanti sentimenti hanno potuto anche creare dei grandi drammi ma i sentimenti vanno visti in una in una luce positiva cioè diventa un bravo leader politico chi riesce a raccontare una storia che evochi una dimensione di sentimenti in cui le persone trovino il loro posto trovino la ragione d'essere trovano la motivazione per fare una cosa risolvano la domanda i perché devo fare così mi fermo perché certo no è un discorso appassionato alla luce ecco ma alla luce proprio di questo tipo di discorso della sfera politica della comunicazione politica è cambiato qualcosa nell'ambito di queste dinamiche comunicative nella politica alla luce di questa epidemia professoressa Posenza si è cambiato un po' quello che dicevamo complessivamente il professor Rodriguez e io torno a dire su alcuni leader particolari ci addentriamo indubbiamente era stato preso in considerazione questo discorso però mi permetto ovviamente di coinvolgervi un po' più direttamente al di fuori ovviamente di considerazione di ordine partitico che lasciamo fuori da questa trasmissione sì 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 quindi vuole delle osservazioni più di prezzi che c'è no vabbè prima in siga vuole che noi generiamo delle emozioni sì sì allora beh sì io come dire mi sono concentrata prima su quelli che in questo periodo secondo me stanno facendo le sciocchezze più grossolane che sono i due Matteo perché insistono con registri completamente sbagliati faccio una notazione aggiungo una notazione il Matteo Renzi si mette sempre nelle sue comunicazioni come se fosse all'opposizione di fatto fa parte del governo e questa cosa qui è ulteriormente controproducente per lui se fossi una persona a lui vicina gli suggerirei il silenzio che tante volte è molto meglio di una parola sbagliata insomma per cui sembrano la cosa che ormai capisce chiunque quindi non c'è bisogno di essere degli analisti di comunicazione che c'è una ricerca di mettersi al centro del centro della scena per cui con lo strillo con il contrasto col seminario Zizzania si vuole rubare l'intervista l'intervento in trasmissione e sembra più rispondere a una esigenza insomma di autoreferenzialità a un bisogno di autoreferenzialità e questo io lo vedo molto nei due Matteo non che Conte abbia fatto meglio da altri punti di vista diciamo che era partito abbastanza bene poi probabilmente per le difficoltà della situazione perché insomma tutti dicono tutti criticano Conte poi dicono sempre non vorrei essere nei suoi panni in questo momento ma insomma quindi allora forse essere un po' più compreso ma delle difficoltà della situazione oggettive che hanno incontrato incontrano tutti i leader in Europa perché non è che confrontandoci con altri paesi noi vediamo che là va tutto bene e qua c'è il caos sia dal punto di vista della comunicazione che dal punto di vista dei fatti nelle ultime sue comunicazioni pubbliche Conte è stato assolutamente meno efficace appariva stanco e soprattutto l'ultima era una ridda di informazioni non chiare e paradossalmente questo perché da un lato dava molti dettagli e dall'altro questi dettagli non aggiungevano chiarezza quindi è come se lui avesse rispolverato lui è un giurista di formazione e insomma sembrava quasi che parlasse in legalese nella caricatura del linguaggio giuridico e delle sue peggiori versioni quindi chiaramente insomma ecco voleva dei riferimenti precisi sì sì ma sono chiarissimi i riferimenti precisi però abbiamo abbiamo sì prego prego insomma quelli che spiccano di più in questo momento sono questi tre che ho menzionato perché appunto è non sempre bene insomma Conte aveva fino a un certo punto ha avuto anche lui un po' la curva del virus ha raggiunto il picco e poi è sceso speriamo che si riprenda perché nella cosiddetta fase 2 c'è bisogno di quella comunicazione allora un'altra cosa che viene spesso detta no c'è bisogno di una sola voce un coerente e si richiama questa cosa dell'uomo solo al comando non trovo soprattutto che in questa allora l'uomo solo al comando secondo me non è una buona cosa mai siamo in una democrazia e ci vuole una polifonia questa polifonia da parte di un governo deve essere coerente in questo caso cosa succede la coerenza è più difficile perché non c'è coerenza nemmeno nelle interpretazioni degli scienziati perché è un fenomeno completamente nuovo e lo dicono gli uomini e le donne di scienza hanno un'impostazione anche comunicativa volta a precisare questo però dal punto di vista della comunicazione di massa non è facile anzi non si riescono a comunicare percentuali e statistiche è più efficace una certezza è più efficace un'affermazione netta sono più efficaci le contrapposizioni chiare ok questo non è proprio del linguaggio scientifico quindi occorre c'è questa difficoltà in più perché si è introdotto il discorso scientifico nel discorso politico e c'è una difficoltà oggettiva nel dover gestire una complicazione incredibile e inedita no è chiaro che nella fase 2 cosa mi aspetterei un ripristino del insomma una capacità di nuovo di riprendere le redini della comunicazione quanto meno come espressione di una capacità di avere il controllo della situazione e non occorre che ci sia l'uomo solo che parla per tutti la polifonia secondo me in questo periodo è un buon segno perché c'è l'idea di uno staff è impossibile che una persona sola possa risolvere questa massa intricata di problemi ovvio che c'è un gruppo ci sono gruppi ci sono poi è stato tanto ironizzato sulle task force numerosissime eccetera eccetera ma insomma io sono rassicurata da leader politici che per una volta non si fanno loro virologi infettivologi ed epidemiologi e chiedono la consulenza meno male speriamo che si continui così c'è una divisione di competenze eravamo abituati a leader tuttologi e tanto più tuttologi quanto più ignoranti perché è così solo l'ignorante può pretendere di sapere tutto in tutti i campi e infatti è questa la politica che ci ha accompagnato se abbiamo un signore che viva Dio prima di dire delle cose di fare delle cose chiede la consulenza di esperti io ringrazio la sorte perché ci sia lui piuttosto che altri detto questo poi tutto ciò secondo me va tradotto in termini di comunicazione proprio per non spaventare le persone per non creare quel disagio laddove magari quel disagio non ha ragione di essere perché le cose stanno cercando di gestirle Conte si diceva il presidente ha questo tipo di capacità però a volte abbastanza contraddittoria con Cali dal punto di vista comunicativo comunque ha questa capacità di rassicurare anche per i modi per la modalità in cui si pone di rassicurare le persone che hanno un sentimento di paura in questo momento su questo non c'è dubbio uno dei sentimenti maggiori di paura è quella del contagio però attualmente emerge un altro sentimento anch'esso abbastanza forte che è quello della situazione economica e delle difficoltà in cui vive la gente questo tipo di sentimento viene intercettato comunque da altri leader politici da Matteo Renzi ultimamente da Matteo Salvini perché non ha lo stesso tipo di presa professore Rodriguez questo sentimento di paura sul piano economico e sociale ma prevale sempre di più questo sentimento di paura a livello di contagio adesso bisognerebbe fare delle analisi adeguate teniamo presente che molto probabilmente la maggioranza dei degli italiani o una cifra abbastanza vicina alla maggioranza è in una posizione di reddito garantito in un certo senso il numero di coloro che percepiscono un reddito dalla spesa pubblica dalla tassazione che siano statali in ambito largo sono un numero consistente siamo un paese di anziani di un paese di garantiti i veri proletari quelli che fanno i lavori veramente duri di una volta e oggi stiamo registrando il giorno del primo maggio sono circa 6 milioni faceva il calcolo Ricolfi e questi sono molto spesso degli immigrati delle persone ai margini non garantiti credo ci sia poi una grossa parte di reddito che abbiamo chiamato nero che non sappiamo come definire meglio e che fa molto affidamento al sussidio perché l'elemento fondamentale di questi anni recenti è lo sdoganamento di una cosa giusta sulla quale siamo arrivati in grandissimo ritardo che è quello di garantire una soglia minima di sopravvivenza a tutti il problema che il welfare italiano non si è posto mentre si è posto il problema per esempio dei pensionati e della loro tutela e difesa lo dico da pensionato e neanche con tanti soldi però è sicuro che io in questi 45 giorni di quarantena non ho perso un soldo forse ho risprimiato qualcosina sono dovuto stare a casa fare quasi sempre la vita che avrei fatto con qualche poco sacrificio rispetto alle cose fatte se tu guardi il mondo da questo punto di vista non può che essere quello dello sconfiggere l'epidemia il primo punto e quindi sei portato se l'uomo è quello che mangia se l'uomo è comunque condizionato dalle condizioni materiali della sua esistenza sei portato a pensare da questo punto di vista questo credo sia quello che domina in questi giorni lo vedo anche in circuiti in chat che non hanno l'atteggiamento ostile nei confronti per esempio di Matteo Renzi come molte altre persone il fatto che una persona come Matteo Renzi dica a volte le cose che secondo me sono opportune per sbloccare anche provocatoriamente delle situazioni e che poi non non raccolga consenso e questo dovremmo capirlo ma tendenzialmente il consenso viene dato a figure rassicuranti a figure vincenti che appaiono avere la probabilità di vincere oggi le persone ti dicono non rompeteci le scatole col dibattito politico non fateci apparire questo Parlamento che si divide prendete delle decisioni e andate avanti però la democrazia è questa roba e le persone sono quello che sono Salvini è così com'è unico e irripetibile Matteo Renzi è così com'è unico e irripetibile e ingovernabile da un certo punto di vista il problema se mi permettete sono due cose che vorrei dire noi abbiamo una difficoltà di collocare il potere politico nelle società come le nostre in società complesse dominate dall'incertezza nemmeno la scienza appare in maniera trasparente la portatrice di verità affidabili nel lungo periodo anche la scienza ormai è chiaro ha verità provvisorie parziali temporanee che si espongono al consenso della stessa comunità scientifica quindi non è che c'è questo questo modo di chiamare qualsiasi professore uno scienziato avete visto oggi tutti non sono il dottore il professore il primario ma è uno scienziato ce l'hanno detto gli scienziati la politica è molto debole in questo in questo momento è debole non attrae le personalità di maggiore talento delle delle società dei gruppi dirigenti questo è il grande passaggio rispetto a cent'anni fa alla politica degli stati nazionali oggi una persona dinamica un giovane di 22 23 anni molto brillante da che cos'è attratto dalla politica o dalla finanza che cos'è che appare la forza capace di plasmare il mondo per come è diventato società mondializzata oggi la capacità di governare le grandi forze che determinano o le grandi tecnologie o la grande finanza e poi c'è un potere che emerge ci siamo concentrati un po' meno su questo che è il potere mediatico oggi un bravo gestore di talk show ha molto più potere di un dirigente politico siamo d'accordo su questo non c'è nessuna offesa nessuna considerazione guadagna molto di più è riconosciuto salutato in spiaggia in maniera cordiale mentre un ministro o un dirigente politico anche rispetto soltanto a 40 anni fa quando ho aperto 50 anni fa quando ho aperto gli occhi sul mondo e i politici venivano salutati in un certo modo quando conoscevi un ministro non dico che ti emozionavi sì ti emozionavi perché se entravi la prima volta al senato ti emozionavi o alla camera adesso nei palazzi del potere e se tu dici su una spiaggia che sei che quello è il ministro ti si avvicina qualcuno e ti insulta questo cambiamento profondo questo nuovo potere non legittimato democraticamente noi dobbiamo tenere presente che il potere dei media è autolegittimato si autolegittima e si legittima sulla base dell'audience sulla base di ciò che fa notizia ciò che fa spettacolo se volete e quindi non è sul contenuto o sulla capacità di approfondire ultimissima cosa perché non voglio annoiarvi io sono in queste ore molto colpito da un fatto i dati che gli scienziati tra virgolette ci hanno detto è che il 40% della diffusione del virus è stato nelle RSA il 24-25% negli ospedali il 10% negli ambulatori siamo a più di due terzi ci si dice qualcuno ci dice nelle prossime settimane come si affronterà la bonifica di tutte le RSA sul territorio nazionale come ci garantiamo che il sistema sanitario non diventi amplificatore di nuove epidemie o di questa epidemia se in autunno dovesse riprendere e invece il comunello dove io ho una seconda casa al mare e dove vorrei andare a cambiare divano e sedermi invece che sul divano di Milano con il cortile della finestra dalla finestra vedo solo il cortile seduto sul divano nella casetta al mare che mi sono riuscito a comprare e vedo almeno il mare il sindaco che è un commissario prefettizio di questo comune ha fatto un'ordinanza che vi potrei leggere nella quale si dice che si può camminare ma non correre si può correre ma non come runner per fare jogging non ci si può sedere sulle panchine quindi puoi andare a passeggiare e non ti puoi sedere puoi passeggiare ma non sulla passeggiata al mare poi puoi andare a pescare perché figuratevi se in un comune della Liguria qualcuno può dire ai suoi cittadini non andate a pescare con la canna si può fare spesa pesca sportiva ma questa si può fare soltanto dalle 6 alle 22 si può andare in bicicletta ma dalle 6 alle 22 ora mi dite un povero Cristo che va a pescare alle 23 o a mezzanotte o che pensa che di notte si possa pescare meglio ma che rischi dà alla popolazione che rischi dà alla diffusione del contagio è una mentalità ossessiva che è quella che mi preoccupa che pensa di risolvere con l'ordinanza i problemi sociali che pensa di risolvere con l'atto formale giuridico dall'eguleio da professore di diritto civile peraltro problemi sociali quello che si sta generando è una sensazione che con la normazione dei comportamenti noi risolviamo la complessità della nostra società che si può andare da Ostiglia a Caseigerola ma non puoi andare da Sarzana a Ulla non puoi andare da Ovada ad Arenzano ci potremo muovere nelle regioni ma non puoi se uno ha la fidanzata al di là del confine regionale adesso con la fidanzata che è una congiunzione stabile non so come è stata definita affetto stabile affetto stabile si potrà fare è questo e si sta generando anche una sorta di i piemontesi e i lombardi che andranno in Liguria saranno considerati e guardati come degli untori perché si è data la sensazione che il problema della diffusione del virus è nella passeggiata che fai mentre abbiamo visto che loro stessi ci hanno detto che il 65% della diffusione è nosocomiale è avvenuta nelle strutture allora è lì che devi mandare l'esercito è lì che dobbiamo fare una riflessione coraggiosa che non è pubblico privato che è una perdita di tempo ideologica è che non abbiamo organizzato la sanità in maniera efficace sul territorio questo ormai l'hanno riconosciuto tutto allora è lì che dobbiamo perdiamo 20 minuti di discorso alla Camera sulla regolamentazione degli orari dei bar e dei caffè e io su questo veramente credo poi certo ho sentito anche ieri sera un autorevole esperente ex ministro dire ma poverino il governo come poteva fare sì sì tutte le giustificazioni che volete non sono sicuro che un'altra persona avrebbe fatto meglio però questo noi credo che dobbiamo dirlo ultimissima questione poi non vi annoio io credo che noi dobbiamo ragionare su come la realtà contagia la politica questo lo dico anche come domanda che farei alla professoressa Cosenza e cioè io temo che queste due sfere coloro che si parlano io leggo il tweet o faccio il tweet perché se faccio questo tweet qualcuno fa il retweet il giornalista non gira più oggi non può neanche più girare due mesi fa non girava perché non hanno i soldi per mandare gli inviati e fare le inchieste ormai l'attività del giornalista è stare davanti al video per vedere chi dice qualcosa quelli che vogliono essere presi in considerazione la dicono e si crea questa quindi c'è usiamo il termine del contagio e della viralità c'è una classe dirigente un gruppo dirigente del paese che si parla in una in un circuito che è sempre più chiuso allora come questo circuito viene contagiato dalla realtà forse un po' qualche indagine qualche servizio televisivo un po' coraggioso come ieri a Piazza Pulita qualcuno che è andato a intervistare gli imprenditori veneti che con qualche volgarità hanno spiegato la loro posizione verso il governo di Roma ma questo cioè c'è un pezzo forse Salvini è riuscito ad intercettare o ad essere stato considerato come campione di quella realtà che era un pochino fuori dalla quella circuitazione vi ricordate il via da Roma del vecchio Bossi era quello cioè però la crisi a mio parere sta accentuando questa divisione di queste due sfere come i gruppi dirigenti sempre più deboli perché non non è più quella quel cursus sonorum di 70 anni fa fare politica la politica non attrae più le forze migliori della società ci sono indubbiamente poteri nuovi poteri molto forti esterni alla politica ed esterni ai confini degli stati nazionali non c'è dubbio però professoressa Cosenza ma ritornando sempre a quel tipo di riflessione del professor Rodriguez e anche quello che lei diceva precedentemente su queste presi di posizione diciamo di tipo istituzionale che sono poco comprensibili sul tema specifico concreto la passeggiata la corsa eccetera ma questo non si basa un po' anche o non è condizionato fortemente da errori che si sono fatti in precedenza faccio semplicemente un esempio si cercava di diffondere particolare attenzione nei confronti dei cittadini in merito all'epidemia quello che hanno fatto molti cittadini in Lombardia è andare via dalle loro case per avviarsi alle stazioni sciistiche e uno dice ma come non avete pensato che in quel tipo di realtà ci sarebbe stato un grande assembramento allora da questo punto di vista sembra che addirittura le istituzioni il presidente del consiglio ma le varie realtà dicono ma forse è meglio a questo punto andare a precisare perché se no la gente pensa che può tranquillamente fare certe cose e non farne altre e quindi si esagera ovviamente su queste questioni quindi sembra che i nostri governanti siano con la testa rivolta un po' indietro agli errori che hanno commesso e sono stati errori abbastanza all'inizio sì ricordiamo anche quel flusso di persone che è scappato dalle stazioni Garibaldi centrale ma che continua anche in questo momento ad andare via a recarsi in meridione in quelle regioni dove il contagio è completamente a zero sì sicuramente c'è questo effetto di fatto poi lo stesso sentire pubblico l'opinione pubblica completata dai sentimenti e dalle emozioni in questi due mesi è cambiato molto cioè io non credo che ci sarebbero di nuovo quelle corse al treno o per andare per ricongiungersi con gli affetti stabili in meridione come è successo che poi non ha creato quel disastro che si pensava oppure per andare in montagna però si è creato sì quella quell'effetto ossessivo che diceva prima il professor Rodriguez no riflettevo sulle considerazioni che prima aveva fatto il collega che trovo ecco per esempio è verissima questa cosa che c'è una ampia maggioranza di contagi che è avvenuta negli ospedali negli ambulatori e quindi in ambiente sanitario medico e mentre il collega parlava mi veniva in mente che c'è una sorta di tabù su questo cioè non si siccome sono coloro che ci curano sono coloro che sono in prima linea ma il problema è che non stiamo accusando i poveri medici e gli operatori sanitari di essere colpevoli del contagio stiamo accusando casomai un'organizzazione del territorio della medicina territoriale degli ospedali che aveva dei problemi tali che si è arrivati a questa situazione incluso il fatto oggettivo che si è sottovalutato quel contagio cinese come se da noi non dovesse mai arrivare non si era pronti a questa crisi innanzitutto a livello medico sanitario però dirlo adesso con medici e infermieri e operatori e operatrici sanitari che stanno facendo una vitaccia da mesi ormai e sono veramente allo stremo è un tabù è proprio quasi un tabù e quindi si preferisce accanirsi però è vero anche che per esempio faceva riferimento a Piazza Pulita Rodriguez ieri queste domande erano le cinque domande che Formigli sta rivolgendo che erano al governo appunto l'attenzione innanzitutto a questi aspetti a questi aspetti cioè come come si pensa di gestire e rimediare rimediare innanzitutto questa situazione e impedire che nella fase 2 nella fase 3 nella fase 4 non accada di nuovo che i contagi si moltiplicano esattamente in quei focolai che sono stati quindi è piuttosto delicato e non l'ha affrontato nessuno ancora a livello forse a livello pratico stanno pensando qualcosa in termini di nuove assunzioni eccetera eccetera però a livello comunicativo trovo che si possa semplicemente banalmente parlare di tabù cioè in questa fase qui non puoi dire alcune cose allora bisognerebbe farlo molto bene ma non è che dal punto di vista comunicativo la nostra classe politica sia così attrezzata incluso lo staff conte che insomma voglio dire da questo quindi se l'è cavata però è pronta a far acqua quell'apparato di decisioni e di comunicazione di queste decisioni quindi non è facile in questo momento dire questa verità laddove le situazioni negli ospedali ecco forse appunto migliorando le situazioni negli ospedali come di fatto stanno migliorando si può cominciare a dirla a prendere atto di questo e a che non sembri che ci si accanisca contro persone a cui dobbiamo la salvezza perché questo è il punto cioè sono persone che se ci ammaliamo siamo nelle loro mani quindi e in più c'è l'aspetto umano dell'aver capito tutti attraverso decine e decine di immagini che ci sono apparse ovunque la rete in televisione eccetera eccetera quanto questi medici e questi sanitari abbiano sofferto e tuttora soffrono non ce la fanno più hanno uno stress ai livelli massimi e quindi nel momento in cui il loro stress cala forse si potrebbe riuscire anche a mettere in scena comunicativamente questo punto e quindi a non accanirsi più sul solitario che va in spiaggia quell'immagine del poveretto in spiaggia da solo circondato da forze dell'ordine agguerrite come se dovessero quasi in tenuta antisommossa ecco quelle immagini lì fanno impressione perché sono ambivalenti perché c'è una parte che dice mamma mia dove siamo arrivati ma c'è un'altra parte che dice va bene fanno benissimo dagli all'untore ho un amico che andava a correre intorno all'isolato e si è sentito perennemente insultato dai vicini incoscienti ecco perché poi dopo il contagio il contagio ecco quindi c'è proprio uno spostamento di attenzione ecco rispetto a questo che è generalizzato il sistema nasce l'untore nasce l'untore nasce l'untore però però io direi anche di soffermarci sulla percezione che hanno le persone e cioè quando vedono una persona camminare da sola tranquillamente senza problemi e indubbiamente non crea problemi non c'è assembramento da questo lato ma perché non c'è assembramento perché non camminano e non corrono anche gli altri semplicemente per questo motivo allora anche una certo un certo disagio e malessere da parte delle persone è strettamente legato a questo tu hai la possibilità di fare di fare questo tipo di scelta di correre di camminare solamente perché io non sono anche lì con te perché non ci sono anche gli altri da questo punto di vista è vero quella persona sdraiata col lettino che fa notevolmente sorridere sorridere il dispiegamento della polizia però se a quel lettino aggiungiamo altri lettini la situazione diventa veramente difficile c'è un rigore da parte indubbiamente in questo momento da parte della comunità scientifica che ha forse un po' di sensi di colpa rispetto a quello che diceva e che ha detto precedentemente ci sono virologi importanti che hanno detto beh insomma è più o meno come un'influenza e quel senso di colpa fa capolino in questo momento e quindi ora c'è un'intransigenza notevole di fronte a questo discorso del movimento del fatto di essere assieme assieme a tanti altri e probabilmente la comunicazione della realtà scientifica insomma condiziona fortemente la comunicazione politica non c'è dubbio un'influenza Grazie a tutti